Salve profili e profili bentornati con questo nuovo video, siamo su MotoGP con l'Aprilia RSV di Manel Bojali Poi in questo video volevo funzionare, tanto da TV, il peccatore è Danacom, con il trapio basso Lascerò il link in descrizione, e ciò è il post di descrizione, niente, non lascio il video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti